Io sono Stenia ma capita che si vengono i posti strani dove si crea il vino quindi questa cosa qua arriva direttamente da questa botte qua Questo è il creatore del vino che siamo per bere No, l'abbiamo già bevuto Voglio fare il filmaggio, dimmi che prendo il vino qua Così mi igienisti Si spaventano tutti Abbiamo tolto il vino qui qua Da questo tino, dove è fermentato con le bucce L'abbiamo messo qua dentro Qua lo facciamo riposare un po' Ho preso le vinacce e le ho messe là dentro nel torto Questo è il torchio Eh, e le sto spremendo Ogni tanto si danno 3-4 porti e si lasciano là Poi si vengono con San Martino, 11 novembre Ogni posto, ogni mosto e vino E tant'è Voilà, Madame Alice Sant'è E anche di amici